Allora Gennaro il tuo gol, il parma in vantaggio, il raddoppio e poi quando sembrava, non dico in cassaforte ma quasi, è arrivata la rimonta della Spal, quali sono le sensazioni in questo momento? Al di là della rabbia che è ovvio che c'è. Scusa, c'è delusione, come hai detto tu c'è rabbia, perché abbiamo dato una seconda vita alla Spal che è una buona squadra ma in quel momento era morta. C'è tanta delusione, diciamo che la colpa è nostra perché non è possibile in campo 2-0, una partita ormai chiusa a 15 minuti dalla fine, prendere gol e poi prendere il pareggio. Sono sensazioni, è brutto perché non riusciamo a portare a casa quello che meritiamo per come ci alleniamo, per come ci impegniamo durante la settimana. L'unica cosa che dobbiamo fare in questo momento, ora c'è la sosta, è riuscire a lavorare ancora di più, anzi dobbiamo lavorare di più, perché quello che stiamo facendo ora vuol dire che non sto abbastando. Niente, stare zitti, pedalare e lavorare, questo è l'unico modo che conosco per tirarci fuori da questa situazione. Ecco, una serata come questa per una squadra comunque giovane come il Parma, con giocatori come te, come Gigi, come Schiattarella che conoscono la categoria, conoscono quello che serve anche per uscire da situazioni come queste. Come si fa a farla diventare esperienza affinché questo non risuccede? Penso che ora l'esperienza anche più giovane ce l'hanno, perché già c'è successo a Frosinone di prendere gol al 94esimo, e ci è ricapitato oggi, ora non deve capitare più. È una questione di attenzione, di saper soffrire. Questo è un campionato che devi stare fino al 95esimo concentrato, perché i valori delle squadre sono bilanciati molto. Non è come in Serie A che la prima stravince con l'ultima, e qua chiunque può vincere con chiunque. Quindi bisogna stare sempre concentrati. È vero che siamo una squadra giovane, però ora non possiamo più regalare questi punti così, perché questi di oggi erano tre punti fondamentali. È vero che siamo giovani, come detto, e l'esperienza forse può mancare in momenti così. Però ora dobbiamo darci una svegliata, perché è la seconda volta che ci capita e non deve capitare più.